Per favore, mentre continuiamo ad inviare truppe nel Canada, il Mac combatte contro il linguaggio scurrilio anche qui a casa nostra. E qui per presentarvi il V-Chip, il dottor Fosnocker. Il funzionamento del V-Chip è semplicissimo. Viene collocato sotto la pelle del bambino ed emette una lieve scarica elettrica quando viene pronunciata una scenità. Aspetti un momento, questo chip è in grado di riconoscere le parolacce. È come la macchina della verità. Ci sono certe reazioni quando si prega, come quando si mente. Il chip le rileva e dà al soggetto una punzacchiata. Paziente B5, puoi venire avanti per favore? Al paziente B5 è stato installato il nuovo V-Chip. Mi fa male la testa. Non preoccuparti, giovanotto. Ora voglio che tu dica cagnolino. Cagnolino. Come notate non è accaduto nulla. Ora diciamo montana. Montana. Oh, bene. E ora cuscino. Cuscino. Molto bene. Ora voglio che tu dica tromba cavallo. Avanti, Erika, è tutto a posto. Tromba cavallo. Cazzo. Merda. Ora voglio che tu dica grosso cazzo di muro flosso. No. Eureka, il bambino non vuole più dire parolacce. Non è giusto, figli di puttana. La settimana prossima cominceremo a installare il V-Chip su tutti i nostri film. No. 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 Grazie a tutti